La politica viene impulso alla redazione della Carta delle Valanghe, ma la struttura tecnico-amministrativa regionale dal 2007, anno di emissione della Carta Storica delle Valanghe da parte del Coreneva, al 2017 non è riuscita a portare a termine il compito che invece, secondo la consulenza tecnica della procura, poteva essere ultimato in quattro anni e quattro mesi. E la convinzione alla base della richiesta di archiviazione per quasi tutti gli esponenti politici regionali coinvolti nell'indagine della magistratura pescarese sulla tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola, a partire dai tre presidenti di regione del turco Chiodi e D'Alfonso. Sono 18 in totale le richieste di archiviazione che riguardano anche gli ex assessori regionali alla protezione civile, la direzione generale della regione, l'allora sottosegretario di stato Federica Chiavaroli, alcuni dirigenti regionali e funzionari della prefettura. Secondo il procuratore Serpi e il sostituto Papalia, in ordine alle eventuali responsabilità della politica sulla mancata redazione della carta di localizzazione del pericolo valanghe, i profili di possibile coinvolgimento appaiono limitati esclusivamente al caso di colpevole omessa vigilanza di attività che incidono sull'organizzazione e sul funzionamento della dirigenza tecnico-amministrativa e di colpevole omesso stanziamento dei fondi. Nelle 52 pagine in cui la procura mette nero su bianco le ragioni delle richieste di archiviazione viene affrontato anche il tema dell'eventuale ritardo nei soccorsi. Condotte superficiali, secondo i magistrati, e scarsamente professionali, eventualmente rilevanti sotto il profilo deontologico e disciplinare. L'assenza di elementi sulla loro efficacia causale rispetto agli eventi di morte e lesioni considerati però, secondo la procura, ne esclude la rilevanza a fini penali. Quanto all'eventuale utilizzo dei soccorsi aerei, dicono ancora i PM, gli elicotteri della Guardia Costiera di Scara erano inidonei a volare nelle condizioni meteo di quel giorno, quando furono interpellati per una ricognizione su Rigopiano. Il non avere preso in considerazione la possibilità dell'evacuazione aerea, dice sempre la procura, fu condotta comunque non censurabile. Massimiliano Serpi e il sostituto Andrea Papalia scrivono anche che di tutta evidenza che in assenza di un imminente pericolo di vita, dato che nessuno paventava che l'hotel potesse essere travolto di lì a poco da una valanga, non era in alcun modo pensabile e ragionevole attivare un ponte aereo per evacuare un hotel in piena efficienza a fronte di altre centinaia di abitazioni e locali isolati. I magistrati poi esaminano la questione della mancata attivazione di una richiesta di intervento degli elicotteri una volta acquisita consapevolezza del disastro intorno alle 19.30 del 18 di gennaio. A prestare un modulo di soccorso in grado di affrontare un'impegnativa opera di ricerca e scavo in ora notturna, senza una ricognizione che escludesse il pericolo di ulteriori valanghe, si legge nelle richieste di rialchivazione, presupponeva per la sua stessa operatività l'accesso per via stradale, indispensabile per portare necessarie attrezzature e ripari temporanei. Quindi, afferma la procura, il non aver optato per un ponte aereo tramite elicotteri appare scelta ragionevole e di certo non incensurabile, ricordando anche quanto accaduto il 24 gennaio, qualche giorno dopo la tragedia di Rigopiano, quando un elicottero del 118 cadde sui pendii del Monte Cefalone a Campo Felice per soccorrere uno sciatore ferito, determinando la morte di sei persone.